La Guardia di Finanza di Egrigento ha proceduto al sequestro dei terreni fabbricati ed imprese per oltre 4 milioni di euro della famiglia Panepinto di Bivona. Il sequestro è stato disposto ai sensi della legge antimafia dal Tribunale di Egrigento su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Le indagini eseguite dal nucleo di Polizia Tributaria di Egrigento hanno portato alla luce beni mobili ed immobili anche in province del nord Italia, nonché numerose imprese che operavano nel settore degli appalti nella bassa quisquina acquistati dai Panepinto attraverso le attività illecite poste in essere. Nello scorso mese di gennaio il Tribunale di Sciacca ha condannato i fratelli Luigi, Maurizio e Marcello Panepinto di Bivona appena dai 10 ai 14 anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione. Dal processo è emerso infatti che il sodalizio criminale dei Panepinto controllava in maniera capillare gli appalti pubblici della bassa quisquina imponendo estorsioni ai danni di imprenditori operanti nel settore degli inerti dei conglomerati cementizi e del movimento terra.